La chiesa innova con una gestione collegiale. Arciprete di Sondrio Don Bricola. Don Zubiani ad Ardenno. Don Cristian Bricola nasce nel 1972 a Dugiate, centro di circa 5.000 abitanti a metà strada fra Como e Varese 1972. Viene ordinato sacerdote il 14 giugno 1997 e destinato come vicario parrocchiale nella parrocchia di S. Due anni dopo è vicario nella parrocchia S. Stefano, fino Mornasco, ovveresta sino al 2008. Dal 2008 è priore di San Bartolomeo in Como e parroco della comunità pastorale Beato Giovanni Battista Scalabrini. . Se ne parla come di realtà molto popolosa e vivace, che comprende le parrocchie cittadine comasche di San Bartolomeo e San Rocco, contesto ampio e multiculturale. . L'equipe in collegiata, Don Cristian Bricola arcipete di Sondrio e parroco della Beata Vergine del Rosario, Don Alessandro Di Pascale collaboratore a Sondrio collegiata e Beata Vergine del Rosario, Don Valerio Livio e nominato vicario a Sondrio collegiata e Beata Vergine del Rosario. . Le altre destinazioni Monsignor Marco Zubiani parroco arciprete di Ardenno. Don Ilario Gaggini e parroco Grosio. Nellimmagine il pensiero del vescovo espresso in occasione della comunicazione incollegiata delle nuove nomine. Vievte discussion trade. . . . .